Non ci sarà la distribuzione dell'acqua nel villaggio Santa Barbara almeno per le prossime ore. Infatti la distribuzione idrica è stata interrotta per precauzione dall'azienda che fornisce il servizio in città. Domenica pomeriggio i gnoti hanno divelto i catenacci degli ingressi del serbatoio che fornisce il villaggio. Non sono state tuttavia riscontrate altre anomalie. Le volanti, chiamate dal personale di Caltacqua, hanno inseguito un sopraluogo ed hanno constatato lo stato dei fatti, ovvero nessuna infrazione di altro tipo e di altro genere. Per precauzione l'azienda ha disposto l'esame dell'acqua nel serbatoio e dunque ha interrotto l'edugazione idrica.